Il tuo bersaglio sarà in una limusine nera. Percorre sempre gli stessi sei isolati sulla Olstead. Hai tre isolati per ucciderlo. Cazzo! Cazzo! Mi scusi! Ben posticino. Barry! Hai fatto mangiare la Barry! Barry! Wesley! Ehi, ma dov'eri finito? Sai, mi sei mancato molto... Ma guarda chi si vede, il grand'uomo! Brutto pezzo di merda! Che vuoi? Scompari per due mesi e adesso vieni qui solo perché devi andare in bagno! Non sei diventato un pezzo grosso, eh? Ma lo vuoi sapere? Tu non sei niente! No, ma che dico? Anzi, sei meno di niente! Non sei neanche metà dell'uomo che è Barry! Barry! Sa darmi piacere in modi che tu nemmeno sapresti sognare! E questa chi è, Wesley? Una puttana! Ti sei ridotta a questo! Paghi per farlo! E questo è un po' di persone che non si può nemmeno sapere! No, ma doveva! Allora, no! Paghi per farlo! è il migliore tutto bene? si si sto bene vado a prendere una macchina bella serata mi ci vuole un bagno